Qual è la connessione tra la rosacea e l'alcol? La rosacea e l'alcol hanno la reputazione di essere collegati, poiché le persone che bevono molto spesso sviluppano arrossamenti facciali a lungo termine. Gli studi indicano che l'alcol non causa la rosacea, come si crede comunemente, ma può essere un fattore scatenante per qualcuno che ha già questa condizione della pelle. Le persone con la rosacea potrebbero volere evitare di bere alcolici e dovrebbero assolutamente evitare prodotti per la cura della pelle a base di alcol, in quanto possono innescare riacutizzazioni della rosacea. La rosacea è una condizione osservata principalmente nelle persone con la pelle scamosciata in cui il viso è soggetto a vampate di calore e arrossamento. Le persone possono sciacquare in risposta a fattori scatenanti, stress, eccitazione, freddo e una serie di altri fattori. Questa condizione può causare imbarazzo per i pazienti, e ci sono trattamenti disponibili per minimizzare i sintomi della rosacea e far sentire le persone più a loro agio. Nel caso della rosacea e dell'alcol, un certo numero di persone famose conosciute per il consumo di alcolici aveva anche la rosacea e sviluppava sintomi estremi di rosacea non trattata, tra cui la pelle grumosa, rossa astra e il tessuto in eccesso sui loro volti. Ciò portò ad una falsa credenza che bere alcolici avrebbe causato questa condizione, mentre questi individui avevano effettivamente la rosacea prima che iniziassero ad abusare di alcol, e l'alto consumo di alcol peggiorò la condizione. L'alcol può innescare una riacutizzazione della rosacea dilatando i vasi sanguigni, aumentando il flusso di sangue al viso e provocando arrossamento del viso. Inoltre, alcuni alcoli contengono altri composti noti per la dilatazione dei vasi sanguigni, che spiegano la gamma di arrossamenti del viso osservati nei pazienti affetti da rosacea che bevono diversi tipi di alcolici come birra, vino e superalcolici. La rosacea e l'alcol possono essere un brutto mix, poiché il viso arrossisce bevendo e questo può contribuire allo sviluppo di danni permanenti a lungo termine. Le persone con la rosacea hanno una serie di opzioni quando si tratta di gestire la condizione. Farmaci e interventi chirurgici sono disponibili per il trattamento del rossore del viso e possono essere effettuati anche aggiustamenti dello stile di vita. Bere raramente e con moderazione può ridurre il numero di episodi di rosacea causati dall'alcol, mantenendo basso il rischio di danni permanenti al viso. Le persone preoccupate per la rosacea e l'alcol possono provare a provare diversi tipi di bevande per vedere quali sono meno probabili causare arrossamenti del viso. I medici possono essere in grado di fornire consulenza per aiutare i pazienti a identificare le bevande più sicure per il consumo con moderazione nelle occasioni sociali. I danni alla pelle associati alla rosacea e al consumo di alcol possono essere aggravati dall'esposizione alla luce ultravioletta e ad altre fonti di danno alla pelle. Le persone dovrebbero essere consapevoli della sensibilità della loro pelle a usare protezioni appropriate sul viso per limitare i danni, in modo che la loro pelle risulti più tarda nella vita. Grazie 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 Grazie